Ciao ragazzi, sono ThePokémonCollector e oggi, anche se un po' in ritardo, sono riuscito a prendere la team di Mewtwo e Mew. Vi dico un po' il motivo. Allora, quella promo che c'è all'interno, che vedete lì, è una delle carte che mi piace di più in assoluto. Già da quando è stata presentata era mia intenzione prenderla, ma diciamo che non volevo prendere il team perché c'erano comunque pacchetti non interessanti. E quindi ho cercato di prenderla a Sfusa. Il problema è che Sfusa non trovo nessuno che la vende sotto i 20€. Di conseguenza non avrebbe senso comprare una promo a 20€ quando l'intera team sta a 30, 33 mi sembra. E con 33 ho 4 pacchetti, più la team, più la promo. Quindi per 13€ di differenza tanto vale prendere tutto e farci questa bella sbustata. Quindi andiamo subito ad aprire e guardiamo bene la promo perché è qualcosa di spettacolare. Dico in ritardo perché comunque è uscita già un po' di tempo fa e è una carta di sintonia mentale, quindi sono un po' in ritardo, ma vabbè. Ho cercato fino all'ultimo di prenderla, ma non sono riuscito a trovarla a prezzi sensati, diciamo. Quindi andiamo ad aprirla. Allora abbiamo la promo spettacolare. Guardate quanto è bella sta carta. E la sto riesco a toglierla. Che spettacolo. Guardate cos'è questa carta qua. Guardate quanto è bella. Incredibile. Davvero stupenda sta carta. L'unica cosa che mi dispiace è che non è stata fatta all'interno del set normale, ma è stata messa come promo. Perché sbustarla sarebbe stata spettacolare. Ok. Dopodiché la mettiamo ad una parte e dopo la mettiamo dietro. Abbiamo 3 pacchetti. 4 pacchetti, scusate. 2 di sintonia, tuoni perduti e guardiani nascenti. Qua c'è il segnalino GX alleati che lasciamo lì perché all'interno non mi serve. Quindi mettiamo questa qua. Poi mettiamo la promo qua in bella vista. Lì, perfetto. E poi iniziamo a sbustare. Partiamo dal più brutto, quindi guardiani nascenti. Dopodiché andiamo con le altre 3. Partiamo. Vediamo come fa questa sbustata, anche se non era, come vi ho detto, il motivo per prendere la team. 1, 2, 3, 4. Boh, proviamo 4. Sì, 4. Mettafuoco. Energia. Komala. Super martello. Distintivo acqua. Castform. Phantom. Tailow. Wildmer. Trabbish. La reverse è Swello, quindi una rara. E infine, un bellissimo wish cache. Wish cache. Raro non oro. Guarda che meraviglia. Perfetto. Andiamo avanti. Toni perduti con l'hardbook di 0 ora. Spacchiamo tutto. Sì. 1, 2, 3, 4. Abbiamo. Energia. Chiara. Fluffy. Kaili. Braxish. Durant. Marip. Ondur. Cutiefly. La reverse è Sensei. E la rara è Victini. Quindi un'altra rara non oro. Bello. E infine, ultimi due pacchetti che sono quelli che interessano a noi. Perché non metto a fuoco oggi? Se abbiamo Deoxys e Espeon. E garcio e garcio e giratino. Partiamo con Deoxys e Espeon. Vediamo se riusciamo a trovare anche una bella carta qua. Sarebbe top. Uno, due, due, tre, quattro. E abbiamo. Energia. Komala. Delmise. Cresselia. Slekot. Dryflun. Dupider. Dradigon. La reverse non è vero. Cotony. La reverse è Noibat. E infine abbiamo... Oh, non ci credo. Ragazzi, c'è una gold. Ed è cintura da karate. Ma. Dai. Ci siamo ripagati... No, vabbè. Però dai. Poteva andare molto, molto peggio. Si vede qua? Mettiamola qua. Adesso la copro. Sbustando. Ultimo pacchetto di sintomi elementari. Ma già sono più che soddisfatto. Perché, diciamo, come ho detto prima, il mio obiettivo era la promo di Mew Mewtwo. Quindi trovare anche una gold e un surplus. Energia. Manchelaz. Timbre reset. Buono. Electric. Dynamo. Poipol. Snorant. Drillbord. Duebol. Dedenne reverse. E infine... Whimsicott. Rara non holo. Che dire, dai! Poteva andare peggio. Abbiamo trovato una bella gold. Ma la cosa più importante è che abbiamo trovato questa meraviglia qua. Guardate quanto è bella sta carta. Come detto, sono arrivato un pelino in ritardo, ma ho voluto tempo a leggere fino all'ultimo. Non riuscino a trovare e mi sono accontentato del tin. È andata bene perché abbiamo trovato la gold. Quindi qualcosa ci recupero. E niente, come sempre, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Per qualsiasi domanda, info, quello che volete potete scrivermi nei commenti oppure su Instagram, c'è il link in descrizione. Nuovamente spero vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!